40 pellegrini giunti dai punti cardinali della provincia di Padova sulle orme di Antonio è un via simbolico al progetto Antonio 2022, quello che in semplicità si vive sul sagrato della basilica che in tre anni farà memoria di tre momenti fondamentali della vita del santo. 800 anni fa frate Antonio lasciava l'ordine degli agostiniani per abbracciare il francescanesimo, nel 1221, naufragato in Sicilia dal Portogallo, ad Assisi un incontro che sarà vissuto in pienezza proprio il 30 maggio 2021, l'abbraccio fra Antonio e frate Francesco. Molto importante della storia di Antonio e questo ricorre appunto nel 1221 e 800 anni l'anno prossimo. Finito il capitolo delle stuoie Antonio non torna con i frati in Sicilia con i quali aveva fatto questo cammino ma rimasto probabilmente tra gli ultimi a lasciare Assisi viene incontrato dal provinciale della Romagna, un certo fra Graziano. Nel 2022 il ricordo degli otto secoli della rivelazione al mondo dell'Antonio predicatore avvenuta proprio in Romagna a Forlì, un progetto segnato dal cammino. A gennaio i pellegrini partiranno come Antonio da capominazzo in Sicilia per arrivare a Padova toccando anche Gemone in Friuli. Sant'Antonio è sempre stato un contemporaneo perché è stato sempre percepito come presente in maniera molto efficace, i suoi miracoli da secoli ne parlano, anche oggi è vicino alle persone ed è un punto anche di ispirazione ideale di vita. Seguire Sant'Antonio è seguire il Vangelo come lui l'ha scelto, seguito e l'ha proposto in maniera davvero efficace. Un camminare nel nome di Antonio che unisce nella fede le genti che sono partite a piccoli gruppi a distanza e all'alba. Cinque e mezza di questa mattina, siamo arrivati alle nove, siamo andati a salutare padre Leopoldo e dopo siamo venuti qui a Santo. È stato molto molto bello perché abbiamo fatto cinque fermate, cinque preghiere, per ognuna c'era un motivo, è stato molto bello. Grazie.